Allora, vi ricordate? Allora, vi dovete bocecare il sito, sito, eh? Allora, iniziamo. Questo vi verrà da tutti, eh? È un segnalibro dove ci sono i vari indizi e le varie informazioni. Prima fra tutto è www.robertococco.it, ok? E da lì vi collegate, lo trovate qui, il sito scritto, e poi andiamo a quiz per il consigliamento della patente. Si clicca lì e si va sulla sezione patentino, eh? Da patentino, che è questo, lo vedete scritto ad esempio il patentino, e poi i vari tipo segnali di pericolo, eccetera, obbligo, e tutto quanto. Da lì fate i famosi quiz vero-falso, 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 e quindi mi pare che sapete già come funziona. Allora, sempre classe contro classe, eh? Quindi voi, ogni classe, la seconda C o la seconda D, gioca contro sia la seconda C, sia la seconda A, la seconda D, eccetera. Quindi la classe contro altre classi. Chi vince tra voi, quindi faremo sempre due incontri con i vigili, due incontri per quanto riguarda le fruciure che vi daremo per fare le prove, andate e ritorno, una giocata andate e ritorno, e quindi chi farà meno errori vince, e che vince, vince prima di tutto l'accesso alla Villa Comunale, il 27 maggio. Già il fatto di venire alla Villa Comunale, avete vinto già Biglietti del Cinema, ok? A proposito, ma voi c'è andato al Cinema? Sì, sì, sì. Allora, Biglietti del Cinema, quindi, chi vince è andato a Villa e già c'è diritto a Biglietti del Cinema. Poi vi scontrerete, o vi incontrerete contro le altre seconde dei vari istituti di Frosinone, eccetera, 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 e via dicendo, e chi vince, vince tanti biglietti del Cinema e tanti biglietti del McDonald's, ok? Questo già lo sapete, va bene?